Viv Healthcare è un'azienda farmaceutica interamente dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di farmaci per la terapia dell'HIV. Noi facciamo il punto sull'attività di ricerca con il dottor Maurizio Amato, presidente e amministratore legato di Viv Healthcare Italia, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento che prende il nome di Innovation, Direction, promosso da GSK e Viv. Dottor Amato, Viv è una delle pochissime aziende impegnate nella terapia dell'HIV nella ricerca di soluzioni innovative. Voglio chiederle appunto se si tratteggiava diciamo così l'impegno attuale, quindi le soluzioni terapeutiche attuali e il loro contenuto innovativo e poi che cosa state facendo per il futuro, quindi dove potrebbe andare la cura dell'HIV nel prossimo futuro. Volentieri, in effetti siamo molto impegnati nell'HIV perché siamo dedicati all'HIV e come obiettivo proprio della nostra missione vogliamo esserci fino a quando non riusciremo a mettere la parola fine o con il vaccino o con la cura funzionale di questa patologia. Il nostro impegno riguarda le aree che sono quelle più insoddisfatte ad oggi e dove quindi pensiamo ci sia bisogno di farmaci innovativi. Allora innanzitutto per quanto sia una nicchia di persone abbiamo ancora purtroppo persone che vivono con l'HIV, che muoiono di HIV per fenomeni di resistenza e quindi il nostro impegno proprio per essere coerenti con la nostra missione è dedicato ad affrontare le multiresistenze per mettere a disposizione di queste persone soluzioni che consentano di sconfiggere e di la malattia e di far vivere evidentemente meglio. Questo tra l'altro lo facciamo con un investimento a Parma che è lo stabilimento produttivo per questa classe di farmaci, gli inibitori dell'attachment e produciamo per tutto il mondo. In generale per persone che vivono con l'HIV e che hanno all'orizzonte una speranza di vita quasi identica alle persone che sono sane, pensiamo invece alla riduzione del carico farmacologico, quindi con soluzioni che hanno la possibilità di ridurre il numero dei farmaci da 3 a 2 o con soluzioni che consentono di migliorare l'aderenza alla terapia, per esempio i farmaci long acting. Ci sono ancora spazi di miglioramento dottor Amato? Purtroppo sì perché il virus muta ed è difficilmente quindi controllabile e quindi il nostro impegno sempre con nuove soluzioni di altre classi, poi per rendere questi farmaci long acting soluzioni sempre più adeguate, quindi pensando a somministrazioni con un intervallo di tempo più lungo, 4 mesi, 6 mesi, in futuro un anno autosomministrazione. E poi la cosa anche che è molto importante per passare dalla terapia alla prevenzione, perché abbiamo all'orizzonte, un orizzonte molto vicino, la potenziale commercializzazione di un farmaco per la prevenzione del contagio. Perché? Perché purtroppo il contagio continua ad essere una certezza. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che sono circa 2.000 le persone che contraggono normalmente la malattia e attraverso strumenti come la prevenzione, la pre-exposure profilassi, possiamo arrivare alla possibilità di azzerare questo contagio. Grazie di quello che ci ha raccontato, lei nell'evento di oggi ha anche sottolineato l'importanza dell'accesso, di dare un accesso privilegiato all'innovazione. Quali sono ancora gli ostacoli? Beh, a livello nazionale innanzitutto la piena consapevolezza del valore dell'innovazione dei farmaci, perché spesso l'innovazione viene in qualche modo confusa con un rischio di maggiore prezzi o con un aumento della spesa farmaceutica. L'innovazione non necessariamente deve costare di più, ma deve essere agevolata. Quindi sia a livello nazionale, percorsi rapidi, a maggior ragione dopo il percorso regolatorio a livello europeo, che già definisce il valore e il place in therapy di un farmaco, e poi a livello regionale, consentire in tutte le regioni un accesso rapido, non soltanto in quelle che sono più sensibili, ma anche nelle altre. Perché ad oggi abbiamo un range che va da due mesi a un anno e mezzo e a volte anche di più per mettere i prodotti a disposizione della popolazione.